E' in isolamento sanitario come previsto dal protocollo anti-covid. Denis Verdini all'interno del carcere romano di Rebibbia. Solo tra una settimana potrà avere contatti con gli altri detenuti. In molti, compresi diversi parlamentari, hanno chiesto di poterlo incontrare, ma a causa delle restrizioni le visite potrebbero slittare. L'ex senatore toscano è stato condannato in via definitiva a sei anni e sei mesi di reclusione per il crack del credito cooperativo fiorentino. I suoi difensori però sono già a lavoro in vista di un altro processo che potrebbe avere pesanti conseguenze. Il prossimo 20 novembre, infatti, in Corte d'Appelo a Firenze è attesa a meno di imprevisti la sentenza per la bancarotta della società toscana di edizioni che editava il Giornale della Toscana. In primo grado, la vicenda giudiziaria era costata a Verdini una condanna a cinque anni e mezzo di carcere. All'orizzonte, inoltre, per l'ex coordinatore di Forza Italia c'è anche una possibile rinvio a giudizio nell'inchiesta sul caso Consip, per cui un mese fa ha ricevuto un avviso di conclusione delle indagini preliminari per turbativa d'asta e concussione. Nel frattempo, Denis Verdini ha già iniziato a contare i giorni che lo separano dal suo settantesimo compleanno il prossimo 8 maggio, data in cui i suoi legali potranno chiedere la detenzione domiciliare. Grazie. 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 Grazie.